riusciremo a non farci più prendere in giro prima sono andato in un negozio una ragazza una commessa metto che ha visto i miei video metto sa mamma mia quando mi hanno fatto male tutti quei commenti che ti hanno fatto io mentre prendevo dei vestiti porco della madonna di cristo e te figura da me quello che mi ha potuto creare metto infatti ti vedo che è una faccia molto stanco detto no sì sì in effetti sto mangiando anche poco e non è che vi voglio dare la mia cartella clinica però volevo anche dirvi come mi sento no se non da fastidio mi sento molto provata mi sento molto stanca e credo che questo è solo l'inizio quindi me ne aspetterà ancora per molto e io gli ho detto a questa ragazza figurati a me quando fa male però ho deciso di farla e la porterò fino alla fine mi ha detto ma può essere che non capiscono tu quando vieni qua a strilli ce l'hai spiegato tanta gente ti vede magari noi quando viene alla cassa chiede no che che ha fatto quella signora spieghiamo non spieghiamo e gli ho detto non lo so finché riusciranno a prenderci in giro io spero ancora per poco spero